Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e nipote dell'attrice Grace Kelly, ha sconvolto tutti i suoi fan con degli scatti di lei senza trucco Anche se è una donna bellissima, le persone l'hanno criticata per lo sconvolgente cambiamento Cono senza trucco la nipote del principe Alberto di Monaco, attira continuamente l'attenzione Ma l'avete mai vista totalmente acqua e sapone? Charlotte Casiraghi è una donna bellissima, però, non è passato inosservato il suo cambiamento Secondo diverse persone, la bellissima figlia di Carolina di Monaco, senza un filo di make-up sarebbe irriconoscibile, totalmente un'altra persona Vediamo gli scatti in questione e giudicate voi, scopriamo di più Charlotte Casiraghi, com'è senza trucco? Incredibile Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è sempre stata sotto i riflettori La sua bellezza ha attirato l'attenzione del pubblico, infatti, in da piccola ha cavalcato le passerelle di moda più importanti per dei famosissimi marchi, come Chanel La nipote di Alberto di Monaco, è cresciuta nel principato insieme ai suoi due fratelli Pierri e Andrea Oggi è una donna e a causa della sua nota famiglia, è continuamente sulla bocca di tutti Ma con il suo fascino e anche con la sua umiltà, è riuscita a conquistare il cuore di tantissime persone Lei non vuole essere chiamata nemmeno principessa, dato che sua madre non lo è Ma essendo un noto personaggio pubblico, riceve anche tantissime critiche Recentemente, sui social, in molti hanno sottolineato la differenza tra il suo viso struccato e truccato Lei è una donna bellissima, ma l'avete mai vista totalmente acqua e sapone? Vediamola Lo scatto di Charlotte Casiraghi senza trucco Foto siamo abituati a vedere Charlotte Casiraghi sempre in modo impeccabile Una donna molto curata e in perfetta forma Ma in pochi l'hanno vista al naturale Dagli scatti che circolano sul web, possiamo trovare delle foto di lei senza trucco È sempre una donna stupenda Inoltre, al naturale si evidenzano ancora di più i suoi bellissimi lineamenti e le sue labbra carnose Alcune persone, però, notano un certo cambiamento Addirittura un utente ha detto che la figlia di Carolina di Monaco è irriconoscibile senza trucco Ovviamente, quando partecipa a degli eventi importanti, ci tiene ad essere vestita e truccata alla perfezione Nella vita di tutti i giorni, invece, Charlotte indossa abiti casual e non si trucca nemmeno La Casiraghi è impeccabile anche senza un filo di make-up